Via Monti e Tognetti, la passeggiata è finita. E ora via, e raggiungo la palina dell'autobus prendendo il pullman che mi porterà ad Ancona, la mia ben amata città, anche bene odiata, perché dopo diventa tutto noiosa perché ci sono poche attrattive. E quando è così, ti annoi e vorreste migrare, ma tanto d'altronde una città che conosci bene non ha più tante attrattive come speri, quindi non c'è niente da fare.